Demer Minaro Herrar, ben trovati. La storia della Prima Guerra Mondiale contiene svariate pagine bianche, molte delle quali sono intrise di una ferocia inaudita, disumana. La cosiddetta Carica dei Morti, del 6 agosto 1915, tra i due imperi impegnati sul fronte orientale, cioè l'impero russo e quello tedesco, è senza dubbio da inserire in una di queste pagine bianche. L'evento si svolse all'interno di una fortezza, quella di Osoviek, in Polonia, nella quale i russi stavano tenendo con ostinazione la linea di difesa da almeno un anno, dal settembre del 1914, e avevano dovuto fare i conti con ripetuti assalti dei tedeschi che dopo la vittoria nella battaglia di Tannenberg avevano iniziato la fase del contrattacco nelle pianure dell'Europa orientale, con l'intenzione di penetrare nel territorio dell'impero russo. Quella di Osoviek fu una battaglia senza precedenti, dove appena 500 soldati che facevano parte del 226esimo reggimento di Fanteria Zemiansky più 400 altri militari si frapposero fra la ritirata generale dei russi a est e l'avanzare di 14 battaglioni di Fanteria, poco più di 7.000 uomini, comandati dal Feldmaresciallo von Indenburg. Più che come battaglia di Osoviek, lo scontro passò alla storia come la carica dei morti, un termine che in maniera sensazionalistica, anche in parte propagandistica, fu cognato in una rivista russa mensile del 2009 dal giornalista Vladimir Voronov. Dunque, fatta questa doverosa premessa, vediamo più da vicino come si svolse questa battaglia. Il video di oggi è un pochino alternativo. Io devo ringraziare prima di tutto le capacità artistiche di Simone, che si è offerto gentilmente di prestare la sua penna per la stesura di tre fantastici disegni che vi farò vedere in speed drawing e cercando un po' di alternarli con immagini e altre cosette varie. Quindi un grazie enorme al mio omonimo. Se volete fate un salto sulla sua pagina Instagram, ve la lascio in descrizione così da poter vedere altri dei suoi capolavori. Bene, partiamo! Sul fronte orientale, le fortezze di Osoviec e Novagyorghevsk per l'impero russo erano importanti snodi difensivi con cui poter facilitare l'attuazione della grande ritirata. Come nel gergo militare dell'epoca, veniva chiamato il ripiegamento tattico che il quartier generale russo effettuò a partire dall'estate del 1915, con l'intento di guadagnare tempo prezioso per la riorganizzazione di armi, truppe e rifornimenti. La fortezza di Osoviec era un sistema difensivo composto principalmente da quattro forti trincerati situati nell'ansa del fiume Biebsia. Il suo scopo era quello di interporsi e bloccare la linea ferroviaria che dalla cittadina di Euk arrivava fino a Biawestok, un crocevia vitale del traffico regionale nell'est del regno di Polonia. Le maggiori fortificazioni e i principali rifornimenti d'artiglieria della Russia azzarista si trovavano sulla riva orientale del fiume. Dall'altra parte, invece, sulla sponda occidentale più paludosa sorgeva una lunga linea difensiva che dal borgo di Sosnia si diramava da nord a sud per oltre due chilometri fino al villaggio di Biawagrondi. Su questa linea occidentale si sarebbero svolte per tre ondate gli assalti condotti dai tedeschi contro le truppe del generale Vladimir Kotrinsky. A partire dal primo attacco nel settembre del 14 fino al terzo assalto nell'agosto del 15 lo soviet e la sua guarnigione si erano rivelate una spina nel fianco dei tedeschi poiché aveva costretto le truppe del Kaiser a rallentare in quel punto della Polonia lo stato generale dell'avanzata. Nonostante i vari tentativi di accerchiamento e l'uso intensivo dell'artiglieria tedesca il forte in mano ai russi resistette senza grossi problemi per almeno un anno. Alla fine l'esercito tedesco per smuovere la situazione si vide costretto ad attuare misure estreme. Nel luglio del 1915 le truppe tedesche al comando del Feldmaresciallo von Hindenburg iniziarono un'offensiva a tutto campo lungo il fronte orientale occupando gradualmente le varie province polacche che erano rimaste sotto il dominio della Russia azzarista fin dal XVIII secolo. Ben sapendo che per oltrepassare il limite naturale rappresentato dal fiume Bievgia fosse necessario eliminare le ultime sacche di resistenza russe poste lungo la linea difensiva tra Osovets e Novo Georgievsk von Hindenburg conscio di quanto accaduto nei due assalti precedenti decise di adottare una tattica alquanto radicale ricorrere alla guerra chimica avvelenando con una miscela di gas tossici i difensori della fortezza più resistente quella di Osovets secondo alcuni si trattò solamente di cloro mentre altri affermano che si trattasse di una miscela di cloro e bromo caduta Osovets von Hindenburg avrebbe potuto circondare le postazioni alle spalle della fortezza e proseguire l'avanzata verso oriente di conseguenza alla fine di luglio i tedeschi spostarono le batterie della loro artiglieria a gas nelle postazioni avanzate nella vallata che si stendeva di fronte alla fortezza un punto di vantaggio del comando tedesco fu quello di essere a conoscenza che i difensori delle torri di Osovets erano sprovvisti di maschere antigas o comunque che quelle poche presenti erano fabbricate in maniera inefficace gli uomini della gastruppe incaricati della gestione delle sostanze chimiche sul campo di battaglia installarono una trentina di batterie a gas composte da diverse migliaia di bombole e rimasero in attesa degli ordini del Feldmaresciallo il quale aspettò per più di dieci giorni il tempo giusto per avere dalla sua il favore del vento in quei giorni i russi dietro le loro postazioni si resero conto di quanto stava per accadere ma stando alle fonti ci viene rivelato che nonostante la condanna a morte decisero comunque di restare sul campo perché nella ritirata generale anche solo qualche giorno in più poteva essere di grande aiuto al resto dell'esercito zarista secondo il piano d'attacco previsto da Hindenburg dopo il rilascio del gas le truppe tedesche sparse lungo la linea difensiva si sarebbero dovute riunire in un unico punto quello da cui il gas sarebbe stato emanato per sfondare così in gruppo la debole resistenza di Osowiec e conquistarne la postazione stando a quanto riportato alle 4 del mattino i tedeschi diedero inizio all'operazione aprendo il fuoco dell'artiglieria contro la fortificazione e rilasciando al contempo il gas sulla pianura una coltre verde scura di cloro si allungò come una nube mortale verso i russi accalcati dietro i muri della casa matta in appena 5-10 minuti la marea gassosa era spaventosamente grossa e arrivava a superare gli 8 km di larghezza e i venti di profondità in quell'oceano verde scuro tutti gli esseri viventi trovarono rapidamente la morte Sergei Kelmekov uno dei difensori distanza al forte sopravvissuto all'attacco al gas rammentò chi si trovava al di là della testa di ponte della fortezza fu avvelenato le foglie degli alberi ingiallirono in pochi minuti arricciandosi su se stesse e cadendo a terra come se di colpo fosse arrivato l'autunno l'erba era diventata nera come la pece e i fiori appassirono come in inverno uno strato verde intenso di cloro si depositò rapidamente su tutti gli oggetti in rame come le pistole e le munizioni rendendole inutilizzabili mentre il cibo nella dispensa dalla carne alle verdure fu tutto contaminato insetti e animali giacevano senza vita nel campo la terra era diventata un inferno la fortezza era totalmente impreparata a un attacco del genere i russi nonostante i giorni di attesa non avevano un piano ben preciso con cui difendersi dagli attacchi dei tedeschi dato che erano privi delle risorse di base per poter proteggere la guarnigione da un attacco chimico in assenza di ciò il risultato del gas sulle truppe russe appostate all'interno della fortezza fu devastante la nona la decima e l'undicesima compagnia furono subito tutte sterminate mentre 40 persone della dodicesima rimasero in vita e con una sola metragliatrice ancora funzionante insieme ai superstiti della tredicesima compagnia i sopravvissuti ammontavano più o meno un centinaio di persone lo stesso comandante Kotlinski in quelle prime fasi era ancora in vita anche se gravemente ferito oltre l'80% della guarnigione era stata intossicata e neutralizzata con il gas che si era accumulato nella bassa pionura di Osoviec come diciamo la nebbia di prima mattina a quel punto i tedeschi credettero di aver gioco facile nella conquista della fortezza dopo l'attacco con il gas i 14 battaglioni di fanteria tedesca si mobilitarono per occupare le postazioni del nemico dalla fortificazione non proveniva alcun rumore questo fece credere agli uomini di Hindenburg di aver sistemato tutti i difensori ma non appena le truppe tedesche si avvicinarono alle trincee russe scavalcando nei fili spinati i pochi difensori sopravvissuti della dodicesima e tredicesima compagnia uscirono all'improvviso dalla fortezza e caricarono i tedeschi con le baionette a malapena in grado di camminare i superstiti si erano radunati dietro la porta principale e avevano deciso di tentare il tutto per tutto in uno scontro che ormai sembrava perso in una testata giornalistica dell'epoca il rusca Jeslova comparve nello stesso mese di agosto la testimonianza di uno dei soldati della fortificazione il quale disse non riesco ancora a descrivere la rabbia con cui i nostri soldati si scagliarono contro gli avvelenatori tedeschi che erano sicuri di averci stanati come topi i colpi delle loro artiglierie il gas e le schegge che ci avevano lacerato la carne non riuscirono a fermare l'assalto dei nostri quei pochi che non erano soffocati si affacciarono alla porta ansimando in cerca d'aria e con lo sguardo iniettato di un miscuglio di furore paura e disperazione uscimmo con lo scopo di respingere per quanto potevamo i tedeschi accadde tutto velocemente come in un incubo non c'era da temporeggiare il generale ordinò subito la carica i soldati dovevano affrettarsi perché la fortuna non era dalla nostra potevamo morire in pochi istanti non ci furono eroi individuali la compagnia caricò come un solo uomo animata da un solo obiettivo un solo pensiero morire ma provando a vendicarsi di quegli avvelenatori uscire dalla fortezza fu l'unica strategia possibile a quel punto per i russi infatti come scritto da un ufficiale tale Kmelkov nonostante le perdite significative la guarnigione dell'artiglieria ancora in vita capitanata dal comandante Potapoff si precipitò subito alla porta nel tentativo di far fronte all'avanzata delle 7000 vaionette tedesche vedendosi col rischio di essere circondati su tre lati Kotlinski radunò i superstiti dei vari battaglioni tra cui quello dello stesso Potapoff e ordinò immediatamente un contrattacco più disperato che razionale gli uomini di Kotlinski dovevano avere un aspetto decisamente orribile l'apparizione della tredicesima e della dodicesima compagnia descritta nelle fonti fu simile a una scena che noi oggi definiremmo hollywoodiana quasi da film horror ci viene detto ad esempio che gli intossicati uscirono dalla coltre di fumo con in faccia i segni delle ostioni chimiche avvolti in stracci bagnati tossendo sangue e sputando pezzi di polmone il fatto per cui i soldati portassero sul volto pezzi di stoffa imbevuti o nell'acqua o nella loro stessa urina fu un tentativo disperato di tamponare l'effetto nocivo del gas mentre lo sputare sangue e i brandelli di tessuto polmonare era dovuto principalmente a causa dell'acido cloridrico che condensando nel sistema respiratorio aveva corroso gli alveoli dei soldati insomma quando sei certo di aver sconfitto il nemico e ti trovi davanti delle mummie armate di baionette che sputano sangue beh la reazione dei tedeschi di darsela a gambe dal campo di battaglia è più che giustificata comunque non c'è alcuna conferma che i soldati abbiano lanciato l'attacco al grido di urrà molto probabilmente quella frase è frutto della fantasia e della propaganda anche perché figuriamoci nello stato fisico in cui riversavano onestamente è difficile credere che i soldati abbiano potuto urlare a pieni polmoni quella parola tutt'al più avranno gridato debolmente magari si trattava di un rantolio lamentoso ma non quel grido convinto che ci viene descritto dalle testate giornalistiche e dai diari dell'epoca a circa 400 metri dalla postazione di difesa il primo a sparare fu un gruppo di sei soldati della tredicesima compagnia la prima a essere uscita dalla fortezza capitanata da Kotlinski di fronte all'imprevedibilità di quell'attacco e alla visione di quella massa di moribondi i tedeschi rimasero talmente spiazzati da andare subito nel panico i tre reggimenti si ritirarono in fretta e furia rimasti intrappolati nell'intricata rete del filo metallico della trincea molti dei tedeschi calpestandosi anche a vicenda morirono sotto il fuoco dalle batterie russe rimaste ancora operative il fuoco degli uomini di Kotlinski concentrato sulla prima linea di trincea fece ad esistere il nemico che vedendo fuggire con militoni abbandonò nel caos generale le trincee lasciando cadere fucili e mitragliatrici le quali furono prontamente catturate dai superstiti russi allo stesso tempo quei pochi soldati tedeschi che avevano cercato di porre razionalmente una resistenza rimasero uccisi nello scontro con le baionette dei russi alle 11 del mattino dopo delle ore infernali con la riconquista delle apostazioni l'assedio poteva dirsi concluso fu così che il contrattacco della tredicesima compagnia decise lo svolgimento della battaglia come riportato sulla testata giornalistica di Mosca attraverso le parole di uno dei soldati alla fine dell'attacco il sottotenente Kotlinski rimase gravemente ferito in totale la tredicesima compagnia catturò 25 soldati sottraendo loro munizioni armi ed equipaggiamento da campo e infliggendo ai tedeschi impanicati pesanti perdite in termini di morti e feriti la reazione dei tedeschi di fuggire dal campo di battaglia è stata variamente interpretata dagli storici di entrambe le parti secondo alcuni fu effettivamente uno scatto di incredulità che spinse i tedeschi a cercare di tornare dietro alle trincee per riorganizzarsi nel timore che tutti i russi in realtà fossero sopravvissuti al gas tossico secondo altri invece fu proprio lo spavento provato dinanzi alla resilienza alla determinazione alla testardaggine dei russi che semidistrutti sia fisicamente che psicologicamente immaginatevi di sputare i vostri stessi organi in preda al dolore e all'asfissia decisero comunque di caricare un'ultima volta contro i tedeschi tuttavia secondo alcuni è più plausibile pensare che delle molte vittime celebrate dai russi in realtà i caduti dell'esercito tedesco ammontassero al massimo a circa duecento un numero comunque sorprendente considerata la situazione sfavorevole per le ferite riportate nella fase del contrattacco e per quelle del gas velenoso Kotlinski morì la sera stessa nell'ospedale d'accampo della guarnigione a lui fu tributata post mortem la croce di San Giorgio per il coraggio dimostrato durante le fasi della resistenza sebbene da un punto di vista tattico la battaglia di Osovie che non serviva molto all'impero zarista dal momento che i russi riuscirono a mantenerla per altre due settimane prima di ritirarsi come è comprensibile la notizia della resistenza riscosse una grande risonanza all'epoca dei fatti tale da suscitare scalpore e rabbia fino a diventare motivo d'orgoglio tra la popolazione russa nel corso della guerra ancora oggi però rimangono molti aspetti oscuri riguardo a questa famosa carica ci sono molte documentazioni da parte russa di cui una buona fetta pompata dalla propaganda nazionale mentre decisamente meno da quella tedesca nonostante dobbiamo ricordarlo a comandare le operazioni ci fosse la presenza di un generale di alto livello come lo stesso Hindenburg tutto ciò non ci fa comprendere appieno quanta verità di fondo ci sia nella resistenza compiuta da ho soviets sta di fatto che indipendentemente da come andarono le cose l'evento fu nella storia delle battaglie e anche nel valore dimostrato un fatto a sé state forse secondo l'osservatore russo Svekin i soldati tra virgolette zombie ebbero addirittura la meglio in quelle ultime fasi concitate proprio grazie alla loro stessa tragedia alla sfortuna cioè di essere soffocati dal gas tedesco per farla breve i russi sopravvissuti sfruttarono la situazione fino all'ultimo secondo facendo avanzare i tedeschi e facendo loro credere che si sarebbero trovati di fronte solo a un cumulo di cadavri in un certo senso se proprio vogliamo vederla tristemente in questo modo fu proprio il gas a salvare quei pochi superstiti o almeno quelli che non uccise nelle fasi immediate alla battaglia ragazzi come sempre vi ringraziamo per l'ascolto inoltre un grazie ancora una volta al nostro Simone per aver realizzato il concept artistico del video che spero vi sia piaciuto a presto ci vediamo in un prossimo video per Aspera ad Astra a presto